Oggi siamo venuti da Castelvecchio si trova nella zona venicola del Carso e siamo qui con Luca che è il responsabile commerciale e assaggiamo la malvasia. Luca la malvasia come viene fatta a Castelvecchio? La malvasia viene raccolta a mano come tutte le nostre uve e l'affinamento avviene in solo acciaio appunto per risaltare questa mineralità che il territorio del Carso offre e si esprime al massimo nei nostri vini bianchi. Siamo sui 13 gradi e mezzo come alcolicità e lo vedrei bene con un risotto perché è un bellissimo frutto al palato e sentori di erbe che mi ricordano la macchia mediterranea e avendo appunto anche una bella una bella persistenza può sicuramente sorreggere anche piatti interessanti sul peggio. Malvasia che è un vitigno autoctono? La malvasia appunto è malvasia estriana nasce e trova una bellissima espressione sul Carso appunto su questo terreno che appunto è rappresentato qui alle nostre spalle che è prevalentemente roccioso con un piccolo strato di terra superficiale e appunto per poter piantare questi filari dobbiamo fare dello scasso di un metro per un metro e recuperare il terreno per cui sì la mineralità c'è tutto ecco. In effetti questa malvasia si sente come nota caratteristica subito la mineralità già al naso. Sì assolutamente è una bellissima mineralità ha una bellissima sapidità, ha una bellissima persistenza e soprattutto voglio evidenziare il fatto che comunque in bocca lascia la bocca pulita, bella e che richiama sicuramente un secondo sorso immediato. Una cosa che comunque resta è l'equilibrio, l'armonia può capitare che nei vini molto minerali risalti spicchi l'acidità, invece questa comunque lascia un buon equilibrio. Il 2016 essendo stata un'annata molto calda a 13 e mezzo come vi dicevo prima di gradazione alcolica però ha un bel equilibrio che comunque non va a creare questi spigoli questi diciamo... No in effetti anche il naso, la carica alcolica non si sente, è molto risalto per la fragranza e noti di fiori bianchi. Sì, noti di fiori bianchi, a me ricorda un sacco anche appunto questa erba aromatica questa macchia mediterranea che poi alla fine va a finire anche con questo leggero sentore amarognolo che mi ricorda anche la mandorla. Sì, vino decisamente eccezionale, noto qui dietro che c'è scritto un piacere senza tempo e di fatto è una nota che trovo molto corretta. Grazie, abbiamo assaggiato la Malvasia 2016.